www.feyyaz.tv Papà, sono tuo figlio Arturo Arturo che ci fai conciato in questo modo? E lei chi è? Arturo ti prego posso togliermi questa roba? Adesso siamo in casa, non c'è il rischio che qualcuno ci riconosca Hai anche il coraggio di parlare Anna dopo quello che sei riuscito a fare oggi Altro che nasconderci, un giorno di questi dovremo cambiare identità Altro esame di guida andato male? Per favore, dai Anna andiamo a cambiarci Andrea, fammi capire qualcosa pure a me di quello che sta succedendo Ma perché ancora non lo sai? Questa è una storia che si ripete ogni anno Mamma fa l'esame di scuola guida pratica e come sempre viene bocciata E perché ci vanno vestiti così? Vogliono rapinarla la scuola guida Ma allora tuo figlio tu non lo conosci proprio? Quello fa così perché non vuole che si sappia che la moglie del grande Arturo Guidi Sono vent'anni che fa l'esame e non riesce a prendere la patente E non solo Papà ogni anno sceglie una scuola più lontana da casa Perché ha paura che qualcuno li possa riconoscere Di questo passo il prossimo anno per prendere la patente mamma dovrà portarsi dietro il passaporto In fondo all'ultimo esame di pratica si era limitata a tamponare un paio di macchie Papà non ci pensare E come faccio? Se si venisse a sapere diventerai la barzelletta del quartiere Ma ti rendi conto ti rendi conto Ha risposto al cellulare durante l'esame di scuola guida Doveva essere una cosa importante Visto che sta ancora al telefono Papà ti prego non ti ci metterai anche tu Mi rimproveri sempre di essere un pessimo guidatore Eppure io Nen tutta la mia onorata carriera da camionista Problemi col cellulare Neanche uno E te credo nonno ai tempi tuoi neanche esistevano i cellulari Andrea adesso il problema è tua madre Ma lo vedi come continua a chiacchierare tranquilla Ma non lo sapete quanto può essere pericoloso parlare al cellulare mentre si è alla guida La più piccola distrazione può essere fatale Ma poi dico io Ma come ti viene in mente di rispondere al cellulare durante l'esame di guida? È da fessi Appena l'esaminatore si distrae scrivi un messaggino Ma hai deciso il serio? Ma sei bravissimo Degno figlio di tua madre A te invece la dovrebbero ritirare la patente È già fatto E quando? Vabbè per oggi per oggi mi basta tua madre Un nuovo appuntamento ma devi raccontarmi tutto Mi sa che oggi non si mangia Finirà prima o poi sta telefonata? Sì sì nonno è già pronta la caponata La caponata ma dove andremo a finire? Da condire ma figurati Arturo sono già condita la caponata Eccola qua No ma veramente Ah guarda che scotta Non mi voglio schiodare Scusa ti devo lasciare Questa finirà per ammazzarci a tutti con questo cellulare E meno male che siamo a casa Pensa mentre guida che danni che potrebbe fare? Mentre guido? Sì Ma Andrea tesoro parli di me? Eh Ma non te l'ha detto papà che All'esame di scuola guida Sono stata bocciata un'altra volta Ma cosa avrà avuto mai così Di tanto importante da dire Mamma guidi al telefono L'uso del cellulare alla guida È un vizio che in tanti considerano anche poco importante Ma invece è la causa di tanti incidenti stradali E proprio di questo andiamo a parlare con le nostre ospiti qui sul divano La vice a questo raggiunto della Polizia di Stato La dottoressa Elisabetta Mancini E l'esperta di comunicazione sociale La dottoressa Stefania Spirito Per l'osservatorio istituzionale di educazione stradale E la sicurezza nella circolazione della regione Lazio E proprio a lei rivolgo questa domanda Abbiamo detto che la guida di strada È la causa di tanti incidenti stradali Quali azioni la regione Lazio ha compiuto per contrastare questo fenomeno? Mai come in questo caso È bene ricordare che l'incidente non è una mera fatalità E che la quasi totalità degli incidenti stradali Dipende proprio dal comportamento di chi è in strada Per questo nel 2009 L'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio Con il suo osservatorio Hanno aderito per il terzo anno consecutivo A una campagna nazionale Vacanze coi fiocchi Che aveva come slogan Spegniamo il cellulare Accendiamo la prudenza Si tratta di una campagna nazionale A cui aderiscono ogni anno Oltre 600 istituzioni Associazioni, radio, società autostradali La polizia stradale Per lanciare un messaggio di convivenza civile sulle strade Noi ci siamo regati con l'assessore allevori pubblici L'osservatorio, la polizia stradale, la società autostradale Presso il casello della Roma Sud Della 1 in direzione di Napoli Per distribuire a tutti i cittadini del Lazio Che partivano dalle vacanze Un opuscolo divulgativo E raccomandare loro prudenza Dottoressa Mancini Sappiamo che essere sorpresi a guidare con le cellulare Non solo è pericoloso Ma può essere anche molto costoso Perché si rischia una multa Che va dai 148 ai 594 euro È così? È corretto però Roberto Non è la multa che ci dovrebbe spaventare È il pericolo che corriamo sulle strade Telefonando Perché telefonare, come dicevi È diventata un'azione naturale Come guidare, come camminare Però purtroppo leggere un messaggino Rispondere a una telefonata Distoglie l'attenzione dalla strada Per diversi secondi Che sono centinaia di metri A seconda della velocità a cui andiamo Quindi mettiamo in serio pericolo La nostra vita Quella dei passeggeri che viaggiano con noi E di chi circola sulla strada E noi chiudiamo anche questa puntata Dandoci appuntamento alla settimana prossima Come al solito Dandovi un consiglio Se siete alla guida della vostra auto E sentite il vostro cellulare che squilla Anche se il codice della strada Ci dice che possiamo utilizzare L'auricolare o il viva voce Beh, tanto vale accostarsi E fermarsi dove è consentito E mi raccomando Mai in incorsia di emergenza